Oggi riapertura degli asili comunali qui a Teramo, primo giorno per i bimbi che rientrano anche se pochi, visto che alcuni ancora sono in vacanza. Qual è la situazione attuale degli edifici che i tecnici del comune hanno comunicato all'amministrazione? Nei giorni passati i tecnici del comune, io insieme a loro, abbiamo fatto dei sopralluoghi in tutti gli asili di proprietà del comune, quindi i nostri cinque asili più il micronido che è andato in gestione a una cooperativa e proprio ieri ci hanno lasciato un'attestazione dove i tecnici dichiarano che la situazione dei nostri nidi non è cambiata rispetto a periodo antecedente sisma e quindi certificano l'usabilità degli edifici. Nel frattempo si stanno controllando anche le scuole materne, una parte sono state già verificate la scorsa settimana, altre sono oggetto di verifica in questi giorni, insieme poi a seguire le elementari e le medie, chiaramente dobbiamo andare molto spediti, qualora si dovesse rilevare qualche particolare condizione ci sono i tecnici della regione a disposizione per dare un supporto tecnico. Chiaramente anche i dirigenti scolastici ci hanno chiesto di fare un attimino il punto della situazione, quindi per martedì pomeriggio è prevista una riunione con cui vedremo un attimino quello che è lo stato degli immobili a quella data e potremo confrontarci insieme a loro e decidere eventualmente il da farsi. Oggi ci troviamo nella struttura di via Diaz, una struttura ristrutturata così come era stato detto dall'amministrazione comunale che ospita 40 bambini, quali sono i lavori nel dettaglio che sono stati fatti qui? I lavori che sono stati fatti sono dei lavori di miglioria che sono terminati per quanto riguarda il nido e che stanno terminando, finiranno tra qualche giorno nella parte della materna che viene ospitata da tutto questo istituto. I giorni scorsi c'è stata una lettera aperta da parte di un tecnico, nonché padre di un bambino che frequenta la San Giorgio. La San Giorgio non ha subito danni dal terremoto a quanto pare, però ha un certificato che risale al 1968. Su questa situazione e quindi sulla San Giorgio cosa state facendo? Il Comune sta facendo delle verifiche con i propri tecnici, che sono dipendenti comunali. Se l'ingegnere Capo riterrà, in base a quello che andrà a rilevare, di chiedere l'ausilio di personale in più da parte della Regione perché ci sono delle particole di criticità, lo farà, ma credo che nel giro di pochissimo tempo ce ne darà anche comunicazione. Quindi io aspetto comunque i report. Grazie a tutti.